Partenariato pubblico-privato finalizzato a uno sviluppo armonico e coordinato della fascia costiera che va da Salerno ad Agropoli. E' quanto contenuto nella delibera del comune di Capaccio Pestum, che ha preso atto della programmazione predisposta dal Consorzio dei Lidi di Pestum e dei distretti turistici Sele-Picentini e Riviera Salernitana. Il nuovo documento di programmazione consentirà a pubblico e privato di realizzare progetti strategici e sinergici per sviluppare e valorizzare in modo coordinato e sostenibile il territorio costiero. Sei i punti di forza della proposta progettuale. Riqualificazione ambientale, riordino urbanistico e recupero del patrimonio esistente, realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, valorizzazione del territorio agricolo e sviluppo di nuovi ecopoli e attrattori per il tempo libero. Grazie